Dottoressa Condorelli, si è chiuso l'evento, sala gremita, tante domande, la folla che in qualche modo ha interagito con i relatori, quali sono le sue considerazioni? Beh, intanto abbiamo imparato tutti noi, prima di tutto come ci hanno confermato che questo è un tumore che riguarda tutti, non solamente gli uomini ma anche le donne, che ci hanno insegnato un po' cosa vuol dire fare prevenzione, quindi dopo i 50 anni fare il discorso del sangue occulto nelle feci e poi nel caso di positività fare la colonna, ma fondamentalmente anche capire un po' la propria storia familiare, conoscere gli stili di vita che sono comunque anche molto condizionanti sul tema del tumore. E quindi credo che sia stato utile avere un punto di vista dei vari operatori del settore, dal medico di base, al gastroenterologo, al chirurgo, per capire come ci si muove in questo mondo insomma pericoloso. Tra l'altro tutti gli interventi hanno sottolineato l'importanza di fare rete, quindi che tutti gli operatori a vario titolo in qualche modo aiutino e facciano sensibilizzazione. Da questo punto di vista la clinica mediterranea con mondo donna è da sempre in prima linea. Sì, perché in realtà noi diciamo sempre che siamo operatori sanitari, però in realtà la salute dipende molto dalla capacità di orientamento del cittadino, di saper trovare le giuste informazioni, proprio perché incidono sullo stato di salute proprio gli stili di vita, la conoscenza della propria storia familiare, ampliare la conoscenza di quali sono gli screening necessari e così via. Quindi è una conoscenza che tutela la salute o che viene prima di arrivare all'operatore sanitario. Solamente tramite questa conoscenza si può essere più sicuri che la propria salute vada nel verso giusto. Grazie. Grazie.